Mohamed la canaglia Andiamo a prendere il caffè sulla terrazza, propose il capitano. Ma sì, andiamo. Il capitano si alzò. Nella sala, rischiarata dal cortile interno, secondo la struttura delle case moresche, faceva già buio. Dinanzi alle alte finestre ad ogiva, le liane ricadevano sulla grande terrazza dove si trascorrevano le sere calde dell'estate. Sulla tavola erano rimasti soltanto alcuni frutti. Enormi frutti africani, uva dai chicchi grossi come prugne, fichi dalla polpa violacea, pere gialle, banane di forma allungata e grasse, datteri di tugur in un canestro di alfa. Il negretto, che serviva, aprì la porta e io salì la scala dalle pareti azzurre che ricevevano dall'alto la luce dolce del giorno morente. Poco dopo, arrivato alla terrazza, emese un profondo respiro di felicità. La terrazza dominava Algeri, il porto, la rada e le coste lontane. La casa, comperata dal capitano, era di un'antica abitazione araba, posta al centro della città, in mezzo a quei labirinti dove brulica la strana popolazione delle coste africane. Al di sotto di noi, i tetti a ripiani quadrati discendevano come scalini di giganti fino ai tetti obliqui della città europea. Dietro si scorgevano gli alberi delle navi ormeggiate, poi il mare, l'alto mare, azzurro e calmo, sotto il cielo calmo e azzurro. Ci sdraiamo sulle stuoglie, la testa appoggiata sopra i cuscini, e mentre sorseggiavo lentamente il caffè, guardavo l'apparizione delle prime stelle nell'azzurro incupito. Si scorgevano appena, lontane, pallide, da poco accese. Un calore lieve, un calore carezzevole, ci vellicava l'ipidermide, e alle volte soffi più caldi, pesanti, in cui si percepiva un sentore indistinto. L'odore dell'Africa, l'alito vicino del deserto, giungevano dalle cime dell'Atlante. Il capitano, sdraiato supino, esclamò, «Che paese, mio caro! La vita è dolce qui, il riposo vi ha qualche cosa di particolare, di delizioso. Sono fatte per sognare, notti come queste! Io rimiravo le stelle che spuntavano, con una curiosità lieve, eppure viva, con un benessere pieno di sopore. Mormorai, dovreste narrarmi qualche cosa della vostra vita nel sud!» Il capitano Marais era uno dei più vecchi africani dell'esercito, un ufficiale di carriera, un antico spy, che si era fatto strada a furia di menare la sciabola. Grazie a lui, alle sue conoscenze, alle sue amicizie, avevo potuto compiere un magnifico viaggio nel deserto, e quella sera, prima di tornare in Francia, ero andato da lui a ringraziarlo. Disse, «Che genere di storia volete? Nei miei dodici anni di deserto mi sono capitate tante di quelle avventure che non me ne ricordo nemmeno una. Ripresi, parlatemi delle donne arabe?» Non rispose. Rimaneva sdraiato, le braccia ripiegate e le mani sotto il capo. Avvertivo a tratti l'odore del suo sigaro, in cui fumo saliva dritto nel cielo, in quella notte di brezza. All'improvviso, il capitano incominciò a ridere. «Ah, sì, vi racconterò una buffa fazzenda che risale al tempo del mio primo soggiorno in Algeria». Avevamo allora nell'esercito d'Africa personalità come non se ne vedono più, tipi che vi avrebbero talmente divertito da indurvi a trascorrere tutta la vita in questo paese. Ero allora un semplice spy, un piccolo spy di vent'anni, biondo biondo, pieno di spavalderia, agile e vigoroso. Caro amico, un vero soldato d'Algeria. Mi avevano assegnato al comando militare di Bogar. Conoscete Bogar, che vi ha inchiamata la terrazza del sud. Avete veduto dalla sommità del forte l'inizio di quel paese infuocato, tormentato, nudo, rosso e pietroso. Quella è davvero l'anticamera del deserto, il limite ardente e magnifico dell'immensa regione delle solitudini gialle. Eravamo a Bogar una quarantina di spy, una compagnia di allegroni, più uno squadrone di cacciatori d'Africa, quando venimmo a sapere che la tribù degli Uledberghi aveva assassinato un viaggiatore inglese, andato non si sa come mai in quel paese, perché gli inglesi hanno il diavolo in corpo. Bisognava far giustizia di quel delitto perpetrato su un europeo, ma il comandante superiore esitava nell'inviare una colonna, pensando che per un inglese non valeva la pena disturbarsi tanto. Ora, mentre parlavo di questa faccenda col capitano e il tenente, un maresciallo d'alloggio degli spy, lì, in attesa per il rapporto, propose ad un tratto di andare a punire la tribù se gli fossero stati concessi sei uomini solamente. Sapete, nel sud si è più liberi che non nelle guarnigioni di città, ed esiste fra l'ufficiale e il soldato una specie di colleganza non reperibile altrove. Il capitano si mise a ridere. «Tu, ragazzo!» «Sì, capitano, e se volete vi condurrò tutta la tribù, prigioniera!» Il comandante, che era un tipo bizzarro, lo prese sulla parola. «Partirai domani mattina, con sei uomini di tua scelta, e se non manterrai la promessa, guai a te!» Il sott'ufficiale rideva sotto i baffi. «Non abbiate paura, comandante. I miei prigionieri saranno qui mercoledì, a mezzogiorno, al più tardi!» Quel maresciallo d'alloggio, Mohamed la Canaglia, come veniva chiamato, era davvero curioso. Un turco, un vero turco, entrato al servizio della Francia dopo una vita assai movimentata, e indubbiamente non chiarissima. Aveva viaggiato in molti paesi, in Grecia, in Asia Minore, in Egitto, in Palestina, e aveva dovuto seminare un discreto numero di malefatte sulla sua strada. Era un vero bacibuzzucche, temerario, buon tempone, feroce e allegro, d'una calma allegrezza orientale. Era corpulento, molto corpulento, ma agile come una scimmia, cavalcava in modo meraviglioso. I suoi baffi, inverosimilmente folti e lunghi, destavano sempre in me un'idea confusa di mezzaluna e di scimitarra. Odiava gli arabi in modo forsennato e li trattava con una crudeltà volpina, spaventosa, ideando di continuo nuove germinelle, raffinate e terribili perfidie. Il comandante gli disse «Scegli i tuoi uomini, giovanotto!» Mohamed mi prese con sé. Aveva fiducia in me, quel coraggioso, e gli rimasi poi fedele anima e corpo per quella scelta che mi arrecò tanto piacere quanto me ne recò più tardi la croce d'onore. Partimmo tutti e sette, e non uno di più, l'indomani mattina, all'alba. I miei compagni appartenevano a quella specie di banditi, di laziatori, che dopo averne commesse d'ogni specie e dopo aver vagabondato per tutti i paesi immaginabili, finiscono per prender servizio in una legione straniera qualunque. Il nostro esercito d'Africa in quei tempi era pieno di questi crapuloni, ottimi soldati, ma di pochi scrupoli. Mohamed aveva dato a portare a ciascuno di noi una decina di pezzi di fune, lunghi circa un metro. Io portavo, per essere il più giovane e il meno pesante, anche una fune intera di cento metri. Poi gli venne chiesto che cosa volesse fare di tutte quelle funi. Con quel suo fare furbesco e placido rispose «Servono per pescare l'arabo». E strizzava l'occhio con malizia, movimento che aveva imparato da un vecchio cacciatore d'Africa parigino. Procedeva in testa il gruppo, col capo avvolto in un turbante rosso che portava sempre nelle spedizioni e sorrideva con aria entusiasta tra i baffi enormi. Era veramente bello quel turco, col torace possente, le spalle di colosso e la sua aria tranquilla. Montava un cavallo bianco di medie proporzioni ma robusto. Il cavaliere sembrava dieci volte troppo grosso per la sua cavalcatura. Ci eravamo messi in cammino in una vallicella pietrosa, nuda, gialla, che sbocca nella valle di Shalif e si chiacchierava della nostra spedizione. I miei compagni parlavano tutte le lingue immaginabili perché si trovavano fra noi uno spagnolo, due greci, un americano e tre francesi. Quanto a Mohamed la canaglia, cargarizzava l'erra in modo inverosimile. Il sole, il terribile sole del sud, che non si conosce sull'altra sponda del Mediterraneo, ci fiombava sulle spalle e procedevamo al passo, come si fa sempre laggiù. Camminammo tutto il giorno senza imbatterci né in una pianta né in un arbo. A luna del pomeriggio avevamo mangiato, vicino al piccolo ruscello che scorreva tra le pietre, il pane e il castrato dissecato portati nel nostro sacco. Poi, dopo venti minuti di riposo, ci eravamo rimessi in cammino. Verso le sei di sera, finalmente, e dopo il lungo giro che il nostro capo ci aveva fatto fare, scoprimmo, dietro un rialzo di terra, una tribù accampata. Le tende brune, basse, creavano macchie scure sulla terra gialla, parevano grossi funghi del deserto, cresciuti ai piedi di quel monticello rosso, calcinato dal sole. Erano i nostri arabi, un po' più lontano, sul limite di una distesa di alfa di un verde cupo, i cavalli legati pascolavano. Mamed ordinò al galoppo e piombammo come un uragano in mezzo all'accampamento. Le donne spaventate, coperte di stracci bianchi che ciondolavano e fluttuavano attorno al loro corpo, si infilarono in un momento nelle loro tane di tela carponi, gridando come bestie braccate. Gli uomini, invece, sorgevano da ogni parte per disporsi a difesa. Andammo dritti verso la tenda più alta, quella dell'aga, il capo. Tenevamo la sciabola nel fodero, seguendo l'esempio di Mohamed, il quale galoppava in una strana maniera. Impettito sul suo piccolo cavallo, che si dimenava sotto di lui come un forsennato per reggere quella mole, restava assolutamente immobile e la tranquillità del cavaliere dai grandi baffi contrastava stranamente con la vivacità della bestia. Il capo indigeno uscì dalla tenda mentre noi gli giungevamo dinanzi. Era un uomo d'alta statura, magro, nero, con gli occhi lucenti, la fronte sporgente e le sopracciglia ad arco di cerchio. Gridò in arabo «Che cosa volete?» Mohamed, arrestando di colpo il suo cavallo, gli rispose nella sua lingua «Sai tu che hai ucciso il viaggiatore inglese?» L'aga pronunciò con voce forte «Non devo subire interrogatori e poi da te!» Attorno a noi era come l'addensarsi di un temporale. Gli arabi accorrevano ad ogni parte, ci stringevano, ci attorniavano vociando. I loro gran nasi ricurvi, il viso magro dalle ossa pronunciate, le larghe vesti agitate dai gesti avevano l'aspetto di feroci uccelli da preda. Mohamed sorrideva col suo turbante a sghimbescio l'occhio eccitato e io scorgevo quasi dei brividi di piacere sulle seguance abbronzate, carnose e solcate da rughe. Con voce tonante che dominò i clamori riprese «La morte a colui che ha dato la morte» e spianò la pistola contro la faccia bruna dell'aga. Vide un po' di fumo uscire dalla canna, poi una specie di schiuma rosa di materia cerebrale e di sangue uscì dalla fronte del capo e gli cadde folgorato sul dorso spalancando le braccia che sollevarono come ali i lembi fluttuanti del suo burnù. Credetti giunto al mio ultimo giorno tanto il tumulto fu terribile attorno a noi. Mohamed aveva sguainato la sciabola noi sguainammo le nostre facendo indietrezzare con un mulinello quelli che lo stringevano più da vicino gridò «La vita salva a chi si sottometterà la morte agli altri!» E agguantando con la mano d'Ercole il più vicino lo caricò sulla sella e gli legò rapidamente le mani quindi gridò verso di noi «Fate come me e sciabolate quelli che resistono!» In cinque minuti catturammo una ventina di arabi ai quali legammo solidamente le mani poi rincorremmo i fuggiaschi perché intorno a noi era stata una fuga generale alla vista delle sciabole snudate catturammo ancora una trentina di uomini per tutto il piano scorgevamo barracani che correvano le donne si trascinavano ai figli e mandavano clamori acuti i cani gialli simili a sciacalli ci giravano attorno abbaiando e mostravano i loro dentacci pallidi uomini il quale sembrava impazzito di gioia saltò con un balzo da cavallo e afferrando la fune che avevo portato attenzione ragazzi disse due uomini a terra e c'è allora una cosa terribile e comica una filza di prigionieri o meglio una catena di impiccati legati solidamente ai polsi del primo prigioniero gli aveva fatto passare un nodo scorsoio attorno al collo con la stessa fune che stringeva le braccia dell'altro prigioniero e si avvolgeva poi attorno al suo collo i nostri 50 prigionieri si trovarono in breve legati in tal modo che il minimo movimento fatto da uno di essi per fuggire lo avrebbe strangolato come avrebbe strangolato i suoi due vicini ogni gesto stringeva il nodo scorsoio del collo ed era giocoforza a camminare con passo uguale senza deviare minimamente l'uno dall'altro sotto pena di cadere subito come una lepre presa al laccio quando quella strana operazione ebbe fine Mohamed si mise a ridere col sorriso silenzioso e il suo ventre ne era scosso senza che alcun suono gli uscisse di bocca ecco qui questa è la catena araba disse anche noi incominciavamo a ridere dinanzi ai visi spauriti e miserandi dei prigionieri ora gridò il nostro capo conficcate un piolo ad ogni estremità ragazzi fu confitto infatti un piolo ad ogni capo di quella fila di prigionieri dei barracani bianchi simili a fantasmi i quali restavano immobili come se si fossero tramutati in pietra e ceniamo aggiunse il turco accendemmo il fuoco e facemmo arrostire una pecora che spezzammo con le nostre mani poi mangiammo i datteri trovati nelle tende bevemmo il latte avuto nello stesso modo e raccogliemmo qualche ornamento d'argento abbandonato dai fuggiaschi stavamo tranquillamente ultimando la nostra cena quando scorse sulla collina di fronte uno strano assembramento erano le donne che si erano salvate solo le donne e venivano correndo verso di noi la ditaia Mohamed il bricone sorrise è la frutta disse ah sì la frutta sopraggiungevano correndo come forse nate e in breve fummo bersagliati da una grandine di sassi lanciati senza fermarsi nella corsa ci accorgemmo che erano armate di coltelli di pioli da tenda e di vecchie stoviglie Mohamed gridò a cavallo era tempo l'assalto fu terribile venivano a liberare i prigionieri e cercavano di tagliare la fune il turco comprendendo il pericolo diventò furibondo e urlò sciabolate sciabolate e poiché restavamo immobili turbati da quella carica di nuovo genere esitanti a uccidere donne si slanciò sulla torma di rompente caricò da solo quel battaglione di femmine cenciose e si mise a sciabolare come un forsennato con tale rabbia con tale impeto che ad ogni fendente si vedeva cadere a terra un corpo bianco era così terribile che le donne spaventate scapparono di corsa come erano venute lasciando sul luogo una dozzina di morte e di ferite il cui sangue chiazzava di rosso le pallide vesti e Mohamed col viso sconvolto tornò verso di noi ripetendo fuggiamo fuggiamo ragazzi stanno per ritornare battemmo in ritirata conducendo a passo lento i nostri prigionieri paralizzati dalla paura di morire strangolati e domani a mezzogiorno eravamo a Bogar con la nostra catena di impiccati soltanto sei erano morti per via ma era stato necessario assai spesso allentare i nodi da un capo all'altro della fila perché ogni scossa soffocava con un solo movimento una decina di prigionieri il capitano tacque io non aggiunsi nulla pensavo allo strano paese dove si potevano vedere simili cose e guardavo nel cielo nero il grezzo innumerevole e lucente delle stelle grazie a tutti